Abbiamo bisogno di altri minerali. Non hai abbastanza minerali. Minerali insufficienti. Abbiamo bisogno di altri minerali. Ehi, blocco dei rifornimenti. Altri sorveglianti, per favore. Servono altri sorveglianti. Quasi. C'è una cucina, più piccola. C'è una cucina, più piccola. Aia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. I minerali scarseggiano. Sei già al massimo di lavoratori. OMG genera altri sorveglianti. Vaffanculo va, vaffanculo. Non hai abbastanza minerali. Sono nella tua base e stanno uccidando i tuoi droni. I minerali scarseggiano. Sei già al massimo di lavoratori. La regina è vero. Abbiamo bisogno di altri minerali. I tuoi guerrieri hanno gli abbastanza minerali. Ah, guarda questo. Ah, che palle. Minerali insufficienti. Hai una nuova regina. I minerali scattati. L'energia non basta. Ci servono altri minerali. Ma è pieno di rocce qui. Abbiamo bisogno di altri minerali. Minerali insufficienti. Non hai abbastanza minerali. Abbiamo bisogno di altri minerali. datbok. E' abbastanza minerali. D'assctureleo. Servei altra energia. servono altri sorveglianti ci servono altri minerali ma è pieno di rocce qui grazie del follow bsg roll abbiamo bisogno di altri minerali non hai abbastanza minerali la regina è pronta ora tocca a lei non 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 Daj, daj, daj. Daj, daj, daj. Daj, 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 daj. Daj, daj, daj. dei rifornimenti, altri sorveglianti per favore questo è finito è finito no 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 è finito è finito i minerali scarseggiano sei già al massimo di lavoratori no no vuoi giocare un po' non c'è abbastanza vespene mutazione completata molto creativa gas vespene insufficiente giacimento di minerali esaurito mutazione completa stanno attaccando la tua base le due forze stanno subendo danni terribili, terribili danni hai bisogno di più i tuoi droni sono sotto attacco qualcuno gioca sporco sono nella tua base e stanno uccidendo i tuoi droni serve altro vespene potrebbe essere ora di espandersi non ho più droni non c'è abbastanza vespene no c'è una 15 non c'è una 15 minerali insufficenti le nostre forze sono sotto attacco ci servono altri minerali ma è pieno di rocce qui la tua base è sotto attacco calma e sangue freddo i tuoi guerrieri hanno ingaggiato il nemico mutazione gosu no mg genera altri sorveglianti minerali insufficienti stanno attaccando la tua base stanno attaccando la tua base sai le nostre forze sono sotto attacco la tua base è sotto attacco calma e sangue freddo oh ma no no esci orion servono altri sorveglianti la base è sotto attacco le tue forze sono sotto attacco stanno attaccando la tua base fottiti fottiti stanno attacco stanno attacco grazie grazie